Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, la tramvia G, il percorso ciclopedonale centro Tor Vergata, la diramazione della metro C. Sfomata l'assegnazione di Expo 2030, i progetti di nuove infrastrutture per la mobilità restano comunque destinati a trasformare il quadrante sud-est della città, a partire dalla cosiddetta metro tramvia G, la linea tramviaria Termini Giardinetti Tor Vergata. Il percorso si innesta su quello della ferrovia Termini Centocelle che sarà trasformata in linea tramviaria potenziata e prolungata sino a Tor Vergata per diventare il collegamento principale tra il centro, l'università e il policlinico di Tor Vergata e il parco